Automotive, 6 miliardi di prestito FCA, avete fatto un piano industriale per mantenere qui la ricerca, per mantenere i posti di lavoro? Non è dato sapersi, però ha dato sapersi che per l'Automotive avete messo 100 milioni di euro sulla rottamazione e ne abbiamo messi 140 per comprare i monopattini fatti in Cina. Complimenti anche su questo. All'Italia, 3 miliardi di euro, bene, vorremmo sapere per fare che cosa, perché mentre date 3 miliardi di euro all'Italia c'è mezza Italia che non è più collegata col traffico aereo. Non parliamo di periferia, parliamo di Genova, di Trieste, di Torino, di Milano-Linate, di Orio-Alserio. Allora, se dobbiamo garantire l'occupazione a 12 mila persone, costa meno fare il reddito di cittadinanza per i dipendenti dall'Italia rispetto a continuare a buttare via dei soldi in un'azienda dove non c'è un piano industriale perché il governo non è capace di farlo. Finisco su un altro settore particolarmente importante, quello dell'agricoltura. Allora, vedete, vi avevamo detto che la sanatoria dei migranti non avrebbe risolto i problemi. Questo non lo diciamo, lo hanno detto tutte le associazioni agricole. Servivano i voucher in agricoltura e serviva a riaprire i corridoi verdi, portare qui i lavoratori stranieri qualificati, non una sanatoria indiscriminata. Ma quello che avete fatto, dal mio punto di vista, è la cosa più odiosa di tutte. Perché voi avete usato la sofferenza dei braccianti clandestini sfruttati dal caporalato per fare un provvedimento che con la difesa del lavoro e la regolarizzazione di quei lavoratori nulla c'entra. Perché se passa il principio che il caporale o il datore di lavoro che sfrutta l'immigrante clandestino con 500 euro ha lo scudo penale per aver reso schiava una persona e mentre un imprenditore rischia il penale pagando le tasse, rispettando le leggi, se un dipendente si prende il Covid, questo dal metro dalla vostra idea di politica. Voi avete sfruttato mediaticamente la sofferenza dei braccianti per fare una cosa sull'immigrazione che con i braccianti agricoli non c'entra nulla. Se volevate fare qualcosa di sinistra, dovevate invertire l'onere della prova, il bracciante sfruttato denuncia il caporale, denuncia il datore di lavoro e viene sanato. Non il contrario, cari signori, vergognatevi e chiudo, signor Presidente.